Eccoci qua, Saverio Galluccio, dicevo, candidato presidente alla Regione, la presidenza della Regione per il Movimento 5 Stelle, intanto finalmente l'abbiamo qui, non era mai venuto da noi e finalmente c'è il Via Libera, si può partecipare a un minimo di TV. Allora, si diceva, l'abbiamo presentato nel corso del telegiornale, si diceva che questo rapporto con le donne mostra una certa difficoltà, ci ha spiegato come mai al Parlamento non sono candidate le donne in Regione, perché hanno sostanzialmente rifiutato, mi pare di aver capito, però c'è questa questione di mira sollevata da Gianfranco Lenarduzzi, che saluto, e quest'assessore donna, le cronache, raccontano che è stata licenziata perché è incinta. Se si va su internet, si fa una breve ricerca, si scopre qualcos'altro, mi pare. Licenziata dal Consiglio, dalla Giunta Comunale? Adesso ce la racconta. Diciamo che intanto rifiuto qualsiasi accusa di misoginia, perché proprio la Giunta di Mira è formata al 50% da donne, quindi credo che dimostriamo un'altra volta di avere un'assessibilità al cosiddetto gentil sesso. Poi oggi è 14 febbraio, dai. Comunque approfondendo la questione invito tutti a farlo tramite i canali liberi di internet, quindi di poter andare a vedere su YouTube un'intervista dove il Sindaco spiega benissimo la situazione. Tra l'altro sembra che sia stato notato proprio ad arte questo caso, come se fosse stata licenziata. Era un assessore che lavorava part time, ha un altro lavoro, è stato chiesto un impegno più grande all'assessorato e quindi è stato fatto un semplice l'impasto in Giunta, niente di più. Comunque l'informazione è abbastanza nel mirino da parte del Movimento 5 Stelle. Lei in particolare ha fatto recentemente sulla sua pagina di Facebook un calcolo di quanti erano ad acclamare sostanzialmente Grillo in Piazza Venerio a Udine. Vuole rifarcelo perché si dice a 3.000, 5.000, 2.000… È il metro quadro? No, adesso te lo fa che è simpatico. Beh, a parte che la Questura per la prima volta dà dei numeri più alti di quelli dei giornali, quindi di solito è il contrario. Il commissario che era presente ha detto guarda qui ci sono 5.000 buoni tranquillamente. Però il calcolo è semplicemente fatto, voglio dire, la piazza è 70 metri per 50 metri, sono 3.500 metri quadri. 3.500 metri quadri, non diciamo tre persone, diciamone due per metro quadro, io credo ce ne fossero molte di più perché eravamo stipati come in una scatola di sardine, per chi ha visto le foto o per chi era in piazza lo può confermare, c'era gente sotto la loggia della Camera di Commercio, c'era gente sopra i bagni pubblici… 7.000? 7.000 persone. 7.000 persone. 8.000 persone. Le auto fino in via l'Ungheria c'erano, questo è vero, era come se fosse un grande evento di Beppe Grillo gratis. Ecco, questa è un'altra cosa che gira, si va a vedere Beppe Grillo perché non si paga, ma non credo sia proprio così. Speriamo di no. Galluccio, come nasce la candidatura alla Presidenza della Regione? Cosa avete fatto? Delle primarie? Avete fatto delle cose? In quanti eravate candidati alla primazia? Eravamo cinque candidati. Il processo che ha portato alla mia elezione è un processo completamente opposto a quello dei partiti. Noi sapevamo che i candidati dei due schieramenti maggiori li sappiamo da anni, non sappiamo quali sono i candidati e non sappiamo qual è il programma. Noi abbiamo lavorato per molto tempo sul programma da maggio, poi abbiamo fatto delle primarie tra i candidati per scegliere i candidati, abbiamo scelto tutti i candidati e solo dopo il 21 dicembre, quindi mi pare che corrispondesse con la fine del mondo Maya, abbiamo scelto tra cinque candidati. Ma voi siete razionali, quindi? Sì, noi siamo razionali. Va bene, va bene. E quindi io sono il risultato, il primo tra i candidati. Io resto a quei 7 mila che erano in piazza a Udine. È partita la corsa alla salita sul carro del vincitore. Ci spieghi chi sta arrivando, che ci faccia l'identikit del saltatore tipo? Diciamo che ci stanno arrivando tante persone oneste, persone disponibili che vogliono aiutare il movimento, spassionatamente e senza niente richiedere in cambio. Che prima hanno votato cosa? Ma guardi, l'altro giorno leggevo su Facebook un mio amico che ha scritto per la prima volta riesco ad andare d'accordo. Io, vecchio comunista, con un cattolico e con uno dell'area che votava Fini. Ecco, questa forse è la grande chiave di volta del movimento. Ma voi un po' comunisti siete, perché a sentire Grillo, come l'altro giorno, c'era il reddito di cittadinanza e dobbiamo aiutare i poveri e non si può, e le banche, eccetera. Più comunisti di così, collettivismo moltiplicato e allungato su tutto lo stivale? Beh, io direi che non siamo ideologizzati e non siamo ideologici. Ci sono delle idee che sono buone e delle idee che non sono buone. Se non riusciamo a fare questo salto che ci porta fuori dalle ideologie, io credo che torneremo nella stessa trappola. Ci sono sicuramente alcune idee che possono essere identificate in idee di sinistra, ma ce ne sono altre tante che possono essere identificate come idee di destra. Diciamo che osservatori più attenti del mio amico Gianfranco dicono che con voi finisce il voto di appartenenza e comincia il voto sui problemi. Questa è l'analisi che ho letto recentemente. Cosa dice lei? Ma sì, c'è questo scollamento che c'è stato tra i politici, io non dico la politica, ma i politici, la classe politica e i cittadini che ha ottenuto solo un risultato, cioè quello che le persone si sono disinteressate ai problemi. Nel momento in cui questi sono affiorati in maniera così forte, i cittadini, perché io mi reputo un semplice cittadino, hanno deciso di mettersi in gioco e di fare qualcosa per cambiare il paese, di risolvere i problemi. Sostanzialmente non esiste ideologia nella risoluzione dei problemi, soprattutto in un momento di crisi. Bene, il problema resta un altro però, lo dico in tutti, è che siete impreparati. In preparazione è uno dei temi forti dei quali veniamo accusati. Io dico che non siamo esperti, non siamo sicuramente esperti di politica e nemmeno lo vogliamo diventare. Forse il merito è questo? Forse è questo, è il grande merito che ci viene riconosciuto dai cittadini che sempre di più ci dicono siete quelli giusti perché non lo fate per soldi e non lo fate per arrivismo, lo fate perché per noi è un servizio, tra l'altro la grande intuizione che ha avuto il movimento è quella di togliere completamente i rimborsi elettorali, quella cosa che era già stata decisa tramite un referendum e quindi togliere i soldi dalla politica. Si chiamava finanziamento pubblico ai partiti. Certo, e poi con un escamotage è stato cambiato il nome, è stato riproposto. Sai in quanti hanno votato in tutta Italia? Eh, tantissimi credo. 93% glielo dico io. E l'altra grande intuizione è il limite dei mandati, senza deroghe di alcun tipo. Da osservatore distratto della politica aiutiamo quelli che sono un po' più interessanti. Secondo lei, l'emolumento di un consigliere regionale, lei dovrà fare sicuramente e dovrà occuparsi di queste cose, quale potrà essere? Oggi siamo a 10.760, 10.800. Allora guardi, noi proprio l'altra sera abbiamo deciso tra i nostri attivisti che il compenso giusto per un consigliere regionale, e rispondo anche alla Seracchiani che mi pare abbia scritto qualcosa riguardo l'altro giorno, debba essere 2.500 euro. 2.500 euro per fare un'attività che deve essere di indirizzo e legislativa e che non ha alcun tipo di responsabilità. Noi confrontiamo lo stipendio dei consiglieri con quello dei sindaci. Il sindaco di Cervignano, che è la mia città, ha sicuramente molte più responsabilità di un consigliere regionale. I vostri spese? I nostri spese saranno esclusivamente a piedi lista. Abbiamo dato un'indicazione di limite a 750 euro, che però riteniamo poi di valutare se questo limite è congruo o no, ma comunque sarà solo per spese effettivamente sostenute dai consiglieri regionali e non forfettarie come attualmente è. Benzina? Benzina rientra in questi 750 euro. Ah, in questi 750, bello. Bel risparmio Gianfranco. Tutto compreso. Trasparenza per trasparenza, tutti gli altri. E con le partecipate come facciamo? Abbiamo un limite per le CdA, non so, Friulia, Finest, Promotour. Le partecipate regionali che sono, diciamo così, l'angolino prediletto dei trombati della politica. Presente cosa succede? Sono uno sicuramente. Sono presente, o molto ben presente. C'è il riparo, diciamo così, il paracaduto, il deltaplano. Intanto è evidente che c'è una corsa perché hanno sentito strane... c'è una rincorsa a fissare quelli che sono i dirigenti adesso, in maniera che poi la prossima amministrazione... Gianfranco, aspetta che ti rispondo un attimo, no? Sì. Dica, dica. La prossima amministrazione non potrà fare diversamente, ovviamente. Quindi stanno arrivando gli ultimi colpi di coda di questa amministrazione che deve assegnare... Stanno nominando gli urgenti. Sì, ma come il discorso sulla provincia, insomma, evitare il commissariamento è palese, che è un favore che viene fatto alla Lega per dare qualcosa in cambio rispetto a un appoggio in regione. Leggo qualche messaggino. Dovreste candidarvi alle provinciali con un programma semplice, chiuderle. Guardi... E invece non vi candidate. Non ci candidiamo perché una delle parole più forti nel nostro programma, dopo quello della trasparenza, è quello della coerenza. Allora, come facciamo a dire ai nostri elettori, e cioè ai cittadini, che noi siamo contro le province in quanto enorme dispendio di denaro pubblico per funzioni che possono essere benissimo date ai comuni e alla regione e poi candidarci per una poltrona? Non ha senso e quindi noi non ci candideremo alle province. Se dovesse vincere non sapendo ancora chi farà cosa, non ci potrebbe essere... Scusi, un vuoto, un vuoto, dice. Beh, avrete delle sorprese. Un vuoto temporale per prendere delle decisioni importanti? Ma avrete delle sorprese a riguardo, nel senso che così come sta avvenendo nelle altre regioni, perché vi ricordo che durante l'Election Day andranno a definirsi anche i consigli regionali del Lazio e della Lombardia e della Lombardia e così come stanno facendo i miei colleghi, i miei amici candidati di queste due regioni, anche noi cercheremo di fare una selezione degli assessori prima di arrivare al governo della Regione. Alle ultime elezioni voi, per esempio, mi pare, se c'è un'altra... No, c'è la telefonata. Pronto. Telefonata. Buonasera. 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 Sono Terasso Eleonor Dutti, è il candidato... È il candidato... La repartita Iuban. Buonasera. Buonasera. Allora, io avevo fatto una domanda un paio di mesi fa al Presidente Tondo, dicendo che attendiamo da due anni, nel senso che attendiamo i dati del PM10 da due anni, quelli del 2011 e quelli del 2012, non ho ancora ricevuto risposta. Allora, preciso questo, sapete qual è la situazione degli organi di controllo ARPA, in regione? Il caso emblematico è quello di La Tisana, dove sono stati fatti dei controlli dove tutto andava bene, quando le cose sono andate fuori dalla regione è venuto fuori un mezzo casino. E non solo quello. lunedì è il discorso dei nitrati, c'è stato un intervento di Clini che ha messo tutto a tacere, dicendo che le analisi fatte sono quelle e basta. Va bene, PM10. Adesso chiediamo a Galluccio cosa pensa di questa questione ambientale. Chissà il direttore dell'ARPA cosa dice. Il problema non è solo il problema dell'ARPA, dell'ambiente in generale. Il signore parlava dei dati. Io credo che una cosa importante che abbiamo messo nel nostro programma, proprio per quello che riguarda l'accessibilità ai dati, è fondamentale per permettere al signore di non dover fare più questo tipo di domande. Cioè noi riteniamo che tutti i dati raccolti dagli enti pubblici, quindi compreso anche l'ARPA che ha una funzione importantissima, debbano essere accessibili ed elaborabili da tutti. Non è possibile che per avere… Il problema è che sapere leggere però, perché se ti danno i numeretti… Sicuramente. Questo lo fai, arriviamo e ci colleghiamo. Però già il fatto che io non debba chiederli mi permette di poterli analizzare. Una volta che ci sono, magari uno non sa leggerli e diciamo che siamo sempre lì. Senta, qualche sera fa in trasmissione sempre umile Mauro Travanut parlava di pochezza di alcuni candidati. Come risponde Movimento 5 Stelle? Ma guardi, io eviterei di rispondere, ho già risposto su Facebook. Ritengo che Travanut, ma generalizzando a tutti i consiglieri, forse più che attaccare noi dovrebbero preoccuparsi di parlare di cose concrete. Un po' di invidia la fate, dai. È un problema suo. Si riduziona dei consiglieri regionali. Questa è una domanda che sembra semplicissima, io non so se è una provocazione ma è interessante. Ci dica in sintesi cos'è il Friuli Venezia Giulia? È una ragione molto complessa. Il Friuli Venezia Giulia è una regione fatta di molti territori, con delle specificità grandi e che forse proprio la visione del Movimento 5 Stelle può capire. Noi in tutto partiamo dal basso e quindi riteniamo che le soluzioni debbano essere per prime proposte dei cittadini e questo risolverebbe tutti quei problemi legati ai campanili, legati alla volontà di strappare questa o quel contributo. Il bilancio partecipativo è una delle cose più importanti che abbiamo. In due parole? Il fatto che una parte non irrisoria, una parte gestita dai cittadini attraverso delle assemblee. Anche con fondi, bisogna dire. Soldi. Anche con fondi, sì. Ed è una battaglia che avevano fatto anche Sudine che poi si è persa un attimo. C'era un progetto europeo mi pare che aveva a che fare con questa cosa. Poi Onsela, diciamo, fatta passare come mediatica e basta, non è stata applicata interamente. Va bene, avete registrato alcune sedute del Consiglio Comunale di Udine? Lo stiamo facendo da sei anni, ultimamente abbiamo un po' mollato il colpo perché siamo presi da impegni sul territorio, ma è stata una delle prime cose che era l'operazione Fiato sul Collo, per la quale io ricordo… Operazione Fiato sul Collo. Senta, operazione Fiato sul Collo, questa è un po', come dire, critica. Questi politici che avete ospitato nella vostra trasmissione fanno venire la nausea, compreso l'ospite di questa nuova politica, ciò che è accaduto a mira, e torniamo al punto è sotto gli occhi di tutti, si vergogni, è falso come gli altri che l'hanno preceduto. C'è il numero di telefono, se interessa si può anche ragionare con il signore. La trasmissione non costa, non paga il canone. Io non sono sindaco di Mira, ho già dato risposta sulla cosa. È una trasmissione in cui non si paga il canone. E quindi anche questo telespettatore può anche utilizzare il telecomando. Va bene, ma no, per l'amor di Dio, lascia che ci ascolti che va bene così. Vitalizzi, Saverio, Vitalizzi. Vogliamo dire che a Mira è successo questo, almeno secondo l'Omento 5 Stelle, così magari tagliamo altri messaggi del genere. che c'era questa signora che aveva un lavoro precedente, che è stata eletta, è diventata assessore, ed era avvocato. Aveva il tempo contato in precedenza, a questo punto, alla 33esima settimana, evidentemente le assenze hanno fatto cumulo e hanno detto che probabilmente è il caso di passare la mano. Il problema, semmai, è quello di dare a un avvocato che è part-time, che è professore universitario, che è avvocato, voglio dire, non farlo assessore, ecco, così evitiamo anche, no? Beh, ma lei ha detto prima che siamo degli inesperti. No, io ho detto che ci perdonerete qualche errore che intengo di piccola intenzione. Io ho detto impreparabile, ma lo sa in che senso l'ho detto. Ci dica in sintesi cosa farà il movimento per la carne e per la montagna in generale. Beh, cosa farà il movimento? Io avrei un'altra visione, nel senso cosa, come intendiamo coinvolgere i cittadini della carnia e della montagna. Noi in programma abbiamo messo una forte attenzione a quella che è la filiera del legno e a una delle tematiche forti che è quella dell'acqua e che è stata depredata attraverso queste intercettazioni che vengono fatte dei corsi d'acqua e per utilizzarle per fini energetici che sta depauperando l'ambiente. Questa è una delle tematiche forti che riguarda la montagna, ma anche quella dell'internet, della possibilità di portare la banda larga che permetterebbe a molti giovani di intraprendere delle attività legate al mondo internet e non solo, anche avere maggiore informazione, accesso a tante cose che tramite internet attualmente è impossibile, perché ricordo che ci sono moltissimi paesi che hanno ancora la banda col dopino telefonico e ci vogliono ore per scaricare una semplicissima foto piuttosto che un testo. La specialità friulana si fonda anche sulle minoranze linguistiche, quindi anche il friulano ovviamente, cosa farete voi? Spesso e volentieri in questa trasmissione si critica i finanziamenti alla lingua, sia friulana sia tedesca che slovena, queste storie emergono spesso e volentieri, quindi è un problema, c'è una destinazione di fondi importante che serve anche per mantenere questa ragionevole specialità. Io credo che la gestione dei fondi forse serve per mantenere qualcos'altro, la specialità e che il friulano vada valorizzato soprattutto nelle famiglie, se deve diventare l'ennesimo modo per prendere e intercettare dei soldi e utilizzarli per motivi, per consulenze o cose del genere, forse non è questo il friulano che vogliamo tutelare, forse il friulano che si parla che io ho imparato da mia madre tardi o che una volta si imparava dai propri genitori e questo è il vero friulano, perché non mi direte che il friulano è quello che è scritto su quel libro che è stato pubblicato da Strassoldo, se non erro, che è stato un friulano che non è quello che si parla dappertutto. Ma non c'entra, quella è la coine, quindi c'è soltanto una cultura giusta per parlare. Io faccio un passo indietro, stamattina avete incontrato i comitati, che sono i famosi comitati del no sostanzialmente e tra l'altro Grillo che in questo momento è in Val Susa, è proprio a Susa, se non a Bussoleno, da qualche parte lì, dice non c'è bisogno di bandiere, siamo tutti notav, siamo tutti valsusini. Insomma, come grido di battaglia non è male, i notav si sono fatti notare anche per alcune cosette mica molto gradevoli. I notav in Friuli, io credo che siano le persone più moderate che ci siano. Stavo citando la valsusa, non facciamo i giornalisti. Ma come al solito, voglio dire, in un movimento così aperto come anche quello dei notav ci possono essere delle persone che, infatti, Perino che è il leader dei notav ha sempre negato, rinegato queste persone. No, io non sono stato in Val Susa. Andrà sulla terza corsia a quattro a manifestare per non farla? Voglio dire, perché no? Ritengo che in questo momento di crisi, riteniamo noi del movimento che in questo momento di crisi il ricorso alle grandi opere come sistema per uscirne è assolutamente sbagliato. Ci sono altre priorità, bisogna stare vicino ai cittadini, non diciamo che non bisogna fare degli investimenti, diciamo che non è questo il momento perché le merci non viaggiano, non ci sono merci. Andare a fare una terza corsia in questo momento indebitando la regione per 2.500... Quasi 3 miliardi. 2.8. Credo sia, non sia il momento giusto. Noi non siamo quelli del no. e ritengo che neanche i comitati che abbiamo incontrato stamattina siano quelli del no, siano i comitati che richiedono maggior partecipazione dei cittadini e maggior democrazia nelle scelte di governo di questa regione. Non siamo contro l'elettrodotto, siamo per l'interramento dell'entrodotto perché avere dei piloni alti 60 metri con l'inquinamento elettromagnetico che possono portare, non è un modo corretto di fare investimenti sul nostro territorio, sulla TAV e sulla terza corsia ho già detto, quindi questa è la nostra visione. Tutti i candidati saranno inesperti, un po' di utilissimo percorso dal basso in comune non sarebbe importante per guidare la regione? Beh, non mi pare che sia richiesto di aver fatto un'esperienza in comune per candidarsi in regione. Quindi, parlare di opportunità. Sì, ma l'opportunità, l'esperienza qual è? Noi stiamo tutti studiando, stiamo facendo dei corsi interni, abbiamo dirigenti della regione che vengono a spiegarci le cose, abbiamo... grillini. Ma non lo so se sono grillini. Simpatizzanti, simpatizzanti. Sono persone che hanno capito qual è lo spirito di questa iniziativa. Domani parte la cassa delle streghe. Domani parte la cassa delle streghe. Domani parte la cassa delle streghe. Senta, grillo, grande spettacolo, scusate, grillo, grande spettacolo, niente di più, la politica è un'altra cosa. Beh, basta vedere la politica spettacolo che abbiamo visto negli ultimi 30 anni, di cosa stiamo parlando, scusatemi, perché parliamo di grillo comico. Io non so se avete visto su YouTube l'ultima uscita a Mirano di Berlusconi. Se non era comico, cabaret è quello, quasi spettacolo pornografico, non lo so. Il Movimento 5 Stelle sarà votato all'unanimità. Questo è un altro messaggino che fa il paio con quelli che dicono che non siete all'altezza. Torniamo ad un'altra cosa che è molto così in musica per le orecchie del cittadino. In Sicilia la questione dei rimborsi. Siete all'opposizione? E stiamo governando. No, e state facendo una cosa che piacerebbe moltissimo anche da queste parti, voglio dire. Ci spiega cosa e come e quanto soprattutto? Beh, noi lo faremo. Abbiamo firmato una lettera di intenti che limita il nostro stipendio a 2.500 Euro e restituiremo quindi ogni mese l'eccedenza rispetto a questa cifra. Non è una promessa. È una cosa che il Movimento sta già facendo in tutta Italia. In Sicilia il mese scorso 123.000 Euro sono stati restituiti alla Regione per un fondo che andrà a fare microcredito per le piccole imprese. Questo mese 144.000 Euro sono stati restituiti. Quindi parliamo di qualcosa come... Senza una legge che stabilisca questo. Senza una legge. Lasciate lì. E le dirò di più. Le dirò di più. Io ho avuto un 2.500 Euro più... Anche il deputato? Ah sì, perché il deputato in Sicilia ha deputato a Roma. Sì. Senta, questa notizia riguarda sempre Mir, sono abbastanza, come dire, sfigati da quelle parti. I grillini si tengono stretti al gettone di presenza. Mira, respinto al progetto di dare tutti i soldi a disoccupati e persone in difficoltà, l'opposizione non era... L'opposizione, perché a Mira governate voi, l'opposizione non era il vostro cavallo di battaglia, il web, quanti parenti, non so cosa voglio dire, ma insomma i grillini si tengono stretti al gettone di presenza. Beh, intanto bisogna vedere di che cifra stiamo parlando, perché insomma è giusto che il gettone di presenza, ed è evidente che questa... 36 Euro per ogni riunione. Ecco, allora stiamo capendo di cosa stiamo parlando. È evidente che è pretestuosa questa 36 Euro, non è una cifra così grossa, è evidente che è stata una richiesta dell'opposizione per dire poi che non hanno rinunciato. Candidato Presidente, il suo omologo a questo caso, fatta la dovuta proporzione, francese, Hollande ha abolito le auto blu. Toccherà anche a lei qua. Le ha abolite? Tutte. Tutte. Nel nostro programma nazionale le auto blu spettano il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica. Basta. Nel nostro programma nazionale. Sì, 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 il programma nazionale è due auto. Bene, quindi... Guardi, guardi, le auto blu, io ho avuto modo di andare a Bruxelles, al Parlamento Europeo, a proposito di un'esperienza, e le posso dire come viene gestita l'auto blu al Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo ci sono 15 auto blu, il parlamentare scende, chiede, devo andare in albergo, mi portate? Sì, aspetti che arriva l'altro suo collega e vi portiamo insieme. Lasciamo stare il Parlamento Europeo che è una voragine. Aspetta, ho una domanda da 4 voti. 4 voti. Cosa farete per le centrali a biomasse già provate con materiali provenienti da 70 km di raggio, ovvero Slovenia dal mondo? Cioè i 70 km sono il porto di Monfalcone, anche sono... San Giorgio di Nogaro, Sedegliano. Questa vale 4 voti. Guardi, stasera ci sarà un incontro a Fagagna, dove sono in costruzione nel territorio una o due centrali a biomassa, proprio perché questa tematica è molto forte. Clini ha fatto un investimento, ha detto che investiranno 4 o 5 miliardi di Euro di contributi, noi siamo assolutamente contrari a un tipo di centrale a biomassa che non sia sostenibile da un punto di vista ambientale. Se parliamo di mais e quindi sottrarre cibo, sottrarre terra alla produzione di cibo, noi siamo contrari. Anche quelle a biomassa, a biogas e a biomassa se la biomassa arriva da centinaia di migliaia di chilometri. Voglio dire, se costruiamo una piccola centrale da 100 kilowatt vicino a un bosco dove gli scarti della lavorazione del legno possono essere sfruttati, perché no? Valutiamolo, noi usiamo il buon senso, ma questo tipo di centrali a biomassa è assolutamente il contrario. C'è un messaggino per Lenarduzzi che dice, bravo Lenarduzzi, lasciamo stare il Parlamento europeo, altro che spending review. Infatti io gli ho detto, lasciamo stare, perché è un ribolo, è un torrente in piena di danaro. Vabbè, ma ti ha spiegato come gestivano le auto blu. Allora, introduzione del referendum propositivo, senza quorum addirittura, e questa fa parte della campagna per la democrazia diretta, questa nuova democrazia che sta portando avanti il movimento. Sì, perché noi ci abbiamo provato, abbiamo provato a fare prima una proposta di legge popolare che ha raccolto 350 mila firme in un giorno per mettere un limite ai mandati, no ai condannati in Parlamento e per abolire i rimborsi elettorali. Questa legge di iniziativa popolare per la quale abbiamo lavorato nel 2007 non è mai stata discussa e adesso cadrà, non potrà più essere discussa. Abbiamo fatto una proposta, un referendum per abolire il finanziamento pubblico ai giornali, per cambiare la legge Gasparri e anche qui hanno cassato le nostre firme. Io credo che i cittadini debbano poter fare delle proposte e debbano essere obbligatoriamente discusse in Parlamento. Noi nella nostra lettera di intenti abbiamo messo proprio questa cosa, e cioè che noi ci impegniamo a portare in Consiglio regionale tutte quelle proposte di legge che ricevono ovviamente un certo numero, noi abbiamo messo il 20% di adesioni di coloro che sono iscritti al nostro portale che è lfvg5stelle.it che vi invito a visitare, nel quale c'è anche la sintesi del nostro programma e ci impegniamo quindi a portarlo qualora raggiungesse il 20% di votazioni, ma anche qualora queste non ricevano il 20%, se sono delle buone idee noi ci impegniamo a portarle. Galluccio, casta per casta, la casta dei burocrati, se lei avesse questa fortuna quindi di essere seduto nei banchi del Parlamento friulano, dell'Assemblea regionale, un dirigente di questa regione, uno dei 124, 220 mila Euroi all'anno, lei potrebbe bussare all'ufficio di presidenza e dire alt, forse questi prendono un po' troppo? Io credo di sì, io credo che solo il Movimento 5 Stelle con una proposta come quella di tagliarsi gli stipendi abbia la possibilità di chiedere un patto, un patto a queste persone dicendo si può fare, non potranno mai a dirci tagliatevi prima voi lo stipendio perché noi lo faremo e quindi noi chiediamo questo soprattutto, chiederemo questo, di fare dei patti di fiducia per far rinascere questa regione e questa Italia in generale e ci impegniamo per primi a farci carico di questi sacrifici che fino a oggi ci vengono chiesti ma che coloro che ce li chiedono non li fanno. Qui c'è finalmente qualcuno che dice cose sensate, bravo e secondo me si riferisce alle Narduzzi. Buonasera, siete favorevoli... Ma non sono l'ospite, che peccato! No, no scherzo, siete favorevoli o è sempre aperto di Monti sul commercio? Ma diciamo che sempre aperto assolutamente no, la chiusura domenicale è una caratteristica italiana, lei va in Austria, lei va in Germania e sabato alle sei i negozi chiudono e non trova più niente di aperto. A Berlino addirittura che è una grandissima città, l'unico centro commerciale aperto è la stazione ferroviaria di Berlino che è un grande centro commerciale e basta. Quindi credo che il commercio ne possa giovare perché la visione è tenere aperto soprattutto in questo momento di crisi in cui i negozi sono vuoti per fare gli stessi incassi e dover pagare una commessa in più per poter tenere aperto, ecco, forse è illogico. Va bene, andiamo a chiudere, abbiamo già sforato come nostra ormai consolidata... Voglio fare solo un appello, se posso. Volevo sapere da lei se è vero che vi staccano i manifesti a Udine. Ma sì, abbiamo avuto in più di qualche posizione dei manifesti strappati, sappiamo che è una cosa che dobbiamo aspettarci, ma noi non molliamo. Non è una novità. No, capiterà spesso, ma non ne vediamo molti i manifesti, questa è la verità. A dieci giorni dalle elezioni politiche non era mai successo... E' il Porcellum. Ma il Porcellum non c'entra, probabilmente ci sono altri strumenti. E' il Porcellum perché noi abbiamo fatto una battaglia contro i faccioni... Quindi la proposta di legge elettorale del Movimento 5 Stelle... Beh, sicuramente ripristinare le preferenze. Quindi il voto di scambio in Africa. Piccolissimo appello, credo per Piazza San Giovanni. No. Sì, allora due appello. Allora, noi stiamo organizzando un autobus e se possibile riusciremo a farne due, un pullman, per Roma. E quindi sul sito FVG 5 Stelle potete contattarci sulla mail per venire a Roma oppure sulla pagina Facebook o scrivete sulla mia pagina Facebook per aderire. E poi chiedo, stiamo raccogliendo le firme per poterci presentare alle prossime elezioni regionali. In ogni comune del Friuli, Venezia Giulia, quindi tutti i comuni, potete firmare per presentarci. Entro il 15 marzo. Bene, basta, basta così. No, se voi foste così determinanti in consiglio regionale, cioè c'è una maggioranza risicata, uno vi chiede, ma votate questa legge sì o no? Sui problemi, dipende. Beh, noi votiamo le leggi buone, perché non faremo quell'opposizione cieca per cui non si votano le cose che arrivano da destra o da sinistra, si votano le idee buone. Se le idee non sono buone, non le votiamo. Se possiamo far sì che queste idee da poco buone diventino buone, parteciperemo. Prove tecniche porta fortuna Galluccio, vedrà. Non lo sappiamo ancora, stiamo a vedere. Comunque in bocca al lupo anche a Saverio Galluccio, che avremo probabilmente nelle trasmissioni elettorali prossime per le regionali. Intanto grazie di essere stato qui con noi, grazie a Gianfranco Lenarduzzi. Grazie direttore. Buonasera, prove tecniche, alla prossima settimana. Con belle sorprese.